Grazie a tutti. No, è che, senti che ne siamo un po' complicati. Pensavo che, cioè, preferivi, insomma, è meglio che rimandere. Scusa. Sì? Ma con chi parli? Eh? Con chi parli? Andiamo avanti. Eh, magari lo sapessi. Morelli Giancarlo. Che pianta, l'hai creativo. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Ho un appuntamento con la dottoressa Rinaldi per una visita ginecologica. Sì, il suo nome? Sofia Navarra. Eccola qui. Prego, puoi entrare. Corridoio, terza porta a destra. Grazie. E' arrivata la signora Navarra. Anche lei è da considerarsi estremamente pericolosa. Sono quindi sconsigliate tutte le iniziative personali. Salve. Sono qui per l'appuntamento che ho fatto con la dottoressa Rinaldi. Sì, c'è un po' di ritardo. Può aspettare nella salita già in fondo. Grazie. Quindi, che devi dirmi? Niente, papà. Parmiglio con Marco. Ma quale Marco che ora esco con Giulio? E' vero, la mamma, l'hai dedicato con la mamma? Ma no. No. Perché è un licenziata? Ma no, papà, ma che dici? Eh, ma allora che ci facciamo a quadro? Ecco a voi. Grazie. È tornato Gran Crispy. So che è il tuo preferito. Per andare da McDonald's non c'è motivo migliore. È tornato il Gran Crispy McBacon. Classico e al pollo. Ciao, zio! La nostra agronoma! E ha pieni voti, eh? Bella la nuova vigna! Migliora ogni giorno, come il nostro San Crispino. Ercole! Lisa! Bentornata tra noi. La nostra uva. Sai, ora qui siamo più di 5.000 viticoltori. Più una. Passo? È tutto tuo. Alla nostra dottoressa! E a San Crispino! San Crispino, da noi per voi. Anuellata tra noi. Cosa?